Giravolta olimpionica di Tozzi, che ammette che a Punta Giglio non ci saranno ecomostri, ma che l'errore è stato mettere a bando la struttura. Così l'ex sindaco di Alghero, Marco Ted, commenta le ultime dichiarazioni di Mario Tozzi, geologo e scienziato, componente del WWF, che in un pezzo a sua firma, pubblicato sulla stampa, aveva definito il progetto di Punta Giglio un ecomostro e oggi, dopo averlo visitato, lo assolve. Ma chi risarcirà i danni d'immagine causati al sistema turistico algherese da quelle improvvide dichiarazioni? Si chiede l'esponente politico di Forza Italia. Ted ribadisce che oggi non servono polemiche inutili. Dove erano i partiti che oggi protestano quando nel 2017 l'Agenzia del Demanio pubblicò il bando e nel luglio del 2018 affidò la gestione ad una cooperativa? Allora Forza Italia protestò duramente, ricorda l'ex sindaco, perché riteneva logico sdemanializzare le postazioni militari lungo le falesie di Punta Giglio e darle in uso al parco di Portoconte. Questo era il percorso convenuto dall'allora sindaco Ted, con il sottosegretario della difesa, Cossiga. Lo Stato sbagliò nel 2017 quando decise di affidare le strutture ai privati, ma lo fece nel silenzio, complice di troppi. Oggi vanamente Ciarlieri, chiude Ted.